Una mail informativa spedita dal Comune al Comitato Ripariamo il Tempio Sario per dire che a breve sulla copertura del monumento inizieranno dei lavori. Come comunicato dalla struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si tratta di operazioni propedeutiche alle ulteriori analisi necessarie per il completamento del progetto esecutivo di restauro. Costo dell'intervento 177.971 euro. L'affidamento riguarda l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di botole di accesso ai sottotetti e l'installazione dei sistemi anticaduta di copertura sul Tempio Sario. Necessari alla realizzazione del servizio di verifiche tecniche delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza sismica sulla chiesa e sulle torri campanarie. Un intervento, questo che si va a fare, che sarebbe dovuto essere eseguito durante la prima fase di restauro. Sembra però che le cose non siano andate così e ora si corre ai ripari. Insomma, le celebrazioni per i cento anni dalla fine della Grande Guerra sono ormai agli sgoccioli e sul Tempio Sario non è ancora stato fatto sostanzialmente nulla di concreto. Il restauro doveva essere completato almeno per il centenario e invece siamo solo ai lavori propedeutici all'intervento di salvaguardia del monumento. Una beffa, se si pensa che già tre anni fa Rete a Veneta aveva proposto un progetto di restauro chiave in mano redatto dalla ditta Fiorin a 600.000 euro. In tre anni probabilmente i lavori sarebbero stati completati. Speriamo non ci tocchi aspettare i 150 anni dalla fine della Grande Guerra per questo benedetto restauro.